Ciò che Lars toglie, Lars restituisce. A distanza di 4 anni dalla famosa riduzione del numero degli assessori, tutto torna come era prima. La città di Sciacca potrà nuovamente avere 7 assessori rispetto ai 5 attuali, così come Ribera ad esempio potrà passare dagli attuali 4 a 5 assessori e anche i piccoli comuni, quelli con meno di 10.000 abitanti, potranno contare ora su 4 assessori rispetto ai 3 attuali. Più assessori per tutti è stato il commento ironico che ha fatto seguito all'approvazione ieri sera all'Assemblea regionale siciliana della nuova legge sugli enti locali. In tutta l'isola infatti i sindaci potranno complessivamente contare su 355 nuovi assessori. Il numero dei componenti dell'aggiunta dipende ovviamente dal numero di abitanti. Sindaci che avranno la facoltà di aumentare gli assessori ma che dovranno comunque far quadrare i conti. L'assessore regionale agli enti locali si è affrettato a specificare che il budget non sarà aumentato. In pratica facendo l'esempio di Sciacca il sindaco Valenti potrà nominare altri due nuovi assessori ma dovrà ridistribuire su 7 le indennità dei 5 assessori in carica a meno che non voglia far gravare il costo dei nuovi sul bilancio comunale tagliando sui servizi. La matassa non sarà facile da sbrogliare non solo a livello economico ma anche politico con i sindaci in carica che si troveranno alle prese con le velleità dei partiti finalizzata ad aumentare la propria rappresentanza. A Sciacca a pochi mesi dall'azzeramento dell'aggiunta e con il caso Tulone tutto raperto chissà che cosa potrà succedere. Quel che è certo è che l'assessore consigliere Fabio Leonte non sarà costretto a rinunciare ad uno dei due incarichi come prevedeva il disegno di legge prima del voto definitivo ieri sera in aula. È stato un emendamento del Movimento 5 Stelle a bocciare la prevista incompatibilità anche se il parlamentare Saccenze Mattomangio Cavallo oggi sostiene di non avere salvato l'assessore Saccenze. Proprio l'emendamento dei grillini ha però generato la polemica politica sulle quote rosa. In pratica l'articolo 1 della legge in questione, cassato con l'approvazione dell'emendamento dei parlamentari pentastellati, non prevedeva solo l'incompatibilità tra il ruolo di assessore e quello di consigliere comunale, ma soprattutto aumentava la quota rosa all'interno delle giunte, almeno il 40%. Bocciata l'incompatibilità, bocciato anche l'aumento degli assessori donna e monta la polemica con i grillini che finiscono sott'accusa. Per la parlamentare Marianna Caronia si torna indietro e si pone un freno alle donne in politica, mentre per la collega Eleonora Locurto è stato bocciato un articolo di avanguardia per la rappresentanza femminile, mentre il capogruppo del PD Lupo annuncia la presentazione di un nuovo disegno di legge che preveda di migliorare la presenza di genere nelle giunte comunali.